Mi trovo qui con Alex Hunter, che è fresco d'esordio con indosso la maglia del Real Madrid. Alex, come ci si sente in campo? Finalmente sono dove dovrai essere. No, dai, scherzi a parte. È tutta la vita che sogno di poter indossare questa maglia, di poter giocare su quel campo. E alla fine è successo. È una cosa che desideravi da tanto tempo. Oh sì, da che ne ho memoria. E quando sono finalmente sceso in campo davanti a quei tifosi per la prima volta? Beh, è stato perfetto. Come se fossi finalmente dove sarei sempre dovuto essere. Congratulazioni, Alex. Grazie.